Il 19 e 20 dicembre, in occasione del decennale della morte di Rita Levi Montalcini, l'Accademia Nazionale degli Incei e l'Ebri, l'istituto fondato da Rita Levi Montalcini, organizzano un convegno per ricordare la grande scienziata con una iniziativa sullo sviluppo del cervello, Building the Brain. Gli studi pieneristici di Rita Levi Montalcini sono nati nel contesto della cosiddetta neuroembiologia, lo studio di come si forma quell'intricata rete di connessioni nervose che costituiscono il cervello adulto e che Rita Levi Montalcini chiamava una affascinante giungla. La sua scoperta del Nerve Growth Factory, il famoso NGF, ha fornito un primo esempio paradigmatico di una classe di molecole che coordina e regola lo sviluppo di alcune fasi del cervello. Nel cervello umano ci sono circa 100 miliardi di cellule nervose, altrettante cellule gliali e circa 100 o 1000 trilioni di sinapsi. La lunghezza delle connessioni nervose che collegano tra di loro questo numero astronomico di sinapsi di cellule è valutato intorno a 850 mila chilometri. Quindi questo affascinante e complicato organo ovviamente pone delle domande molto importanti per quali siano i meccanismi con cui si sviluppa, come si generano le cellule staminali che vanno a formare le cellule nervose adulte, come acquisiscono la loro identità e la loro diversità, come migrano le cellule nei loro siti di destinazione finale e come le cellule una volta migrate alle loro destinazioni finali contraggono tra di loro quelle sinapsi che costituiscono proprio i circuiti nervosi. E queste sinapsi una volta che si sono formate, come modificano la loro efficacia in quel processo che si chiama plasticità sinaptica sia nel cervello neonatale che nel cervello adulto e qual è il ruolo dell'ambiente nel modificare le connessioni sinaptiche. Questi sono alcuni dei temi che verranno affrontati anche descrivendo metodi recenti che permettono di affrontare queste domande nel contesto del cervello umano, quindi con una enorme potenzialità esplicativa e applicativa allo studio di gravi malattie del neurosviluppo e neurodegenerative. Potremmo ascoltare scienziati e scienziate provenienti dall'Italia, dall'Europa, dagli Stati Uniti, le cui ricerche stanno portando avanti la frontiera di questo affascinante tema che è la comprensione del cervello umano. Questo è il modo migliore per ricordare la grande scienziata e donna Rita Levi Montalcini. Grazie. 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 Grazie.